Signori miei, benvenuti ad un nuovo titolo del team di sviluppo Chilas Art siccome i titoli di Chilas Art vi sono piaciuti tantissimo, comunque sia quelli che ho portato ho deciso di tenermi aggiornato sulle nuove uscite e questo è il titolo più recente, è uscito praticamente 3-4 giorni fa e si chiama Shinkansen Zero grazie che è passato di sopra perché altrimenti non l'avrei mai tradotto questo e non ne so nulla, quindi parto alla cieca l'ho solo avviato per vedere se girava bene e gira bene, quindi direi di iniziare ah, così proprio, partiamo così in quest'area nessuna anomalia di cosa diavolo sto parlando? il telefono non funziona ottimo ok accessi funzionano però ottimo vediamo che gioia ci regalerà madonna mia tornare indietro se c'è un'anomalia ah, ok di quali anomalie parla? questa è un'anomalia questo qua guardate i capelli di questa sono un'anomalia possiamo già tornare indietro in realtà che cosa intende per anomalia bu? non lo so vostra ragazzina tu sei un'anomalia? anche perché mi segui con lo sguardo tu sei un'anomalia boh, non ho idea di cosa intendo però andiamo avanti non so neanche qual è l'obiettivo del gioco non so nulla ragazzi si fa tutto alla cieca stiamo sempre a sette come è possibile? quello è sempre lì anomalia ciao 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 qua stai facendo ciao di nuovo anche tuo fratello è venuto a giocare sono così eccitato sono libera perché mia sorella non si è svegliata non importa quanto io aspetti ho aspettato così tanto ma non è successo ma mio fratello giocare con me quindi ora sono a posto conosci le regole del gioco? no le regole sono semplici cose che sono cambiate se c'è tornare indietro facile vero? quali cose? per finire il gioco? it carrozza dal treno a zero fino alla fine della strada e oltre cabina basta azionare i freni in cabina non c'è anomalia nella carrozza con servizi igienici capito? si ci vediamo alla fine allora ma che anomalia allora quindi se troviamo anomalie dobbiamo tornare indietro ma quali anomalie? di che anomalie parla? dammi un esempio almeno no? cose che sono cambiate ha detto ok allora vediamo bella sta aspetta scusate ma questo non è un film mi ricorda qualcosa questo film forse l'ho già visto ma vabbè cerchiamo queste anomalie io continuo a ribadire che questo è un'anomalie quindi se troviamo un'anomalie dobbiamo tornare indietro ok cosa sarà mai questa anomalie come sappiamo se stiamo facendo le cose correttamente tipo qua c'è il bambino adesso non c'è è un'anomalia what the fuck ma scusa ma questa è una persona ma che chezzo è un culo quello è una persona quindi dobbiamo tornare indietro questa è un'anomalia non c'è cioè prima c'era se non ricordo mai c'era una valigia prima quindi quella è un'anomalia oh 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 è un'anomalia dobbiamo tornare indietro allora sei vedi è un'anomalia madonna questo dorme sempre ok aaaah saccola cos'era quella cosa oh 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 mio dio oh torna indietro oh cristo cos'era questa ahahah 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 mica mi ho fatto cagare come stava corretto ahahah 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 oh madonna ahahah oh madonna ahahah che creepy ah no questo non era un'anomalia ahahah via e si torna indietro no ahahah ahahah ecco giuda ma quattro vedete ma una grande qui dobbiamo stare attenti anche ai suoni ovviamente anche i suoni ma torno non credo sia a tempo cioè possiamo assolutamente farlo con tutta la calma del mondo no sembra tutto ok la tipa dorme oddio forse possiamo proseguire sapete credo che non sia nessuna anomalia possiamo andare avanti dio ti prego tre si è una grande sto andando bene minchia io spero che le anomalie sono roba del genere visive perché se sono robe un po' più precisine è complesso cioè nel senso metti che qua ad esempio c'è l'11 così e qua c'è di nuovo l'11 minchia magari non ci faccio caso per dire no cioè se cambia che post può cambiare qualsiasi cosa quindi può rimanere fregato dalle piccole cose ok la tipa c'è ancora proviamo ad andare avanti andiamo due ok 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 stanno andando bene stanno andando bene riflesso ok bene piano guarda ogni minima cosa guarda c'è perca di non questi sono pure gli schi grafici guardate lì i numeri che fanno così madonna potrebbe essere un'anomalia sì un'anomalia del motore grafico mi pare tutto ok la valigia c'è sempre io direi di provare ad andare avanti spero di non rimanere fregato oh no madonna sì so perché ha fatto un mega scatola aspetta vabbè ho controllato bene what the fuck dovremmo avercela così fatta in teoria in teoria non cantiamo vittoria non so quanto potrebbe durare ma si torna indietro ah Gesù corri 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 si sta lagando tutto oh Gesù mi ha fatto cagare zero ma no l'abbiamo così fatto ok nulla di complicato no assolutamente è abbastanza facile ma non eh quello però non va bene la porta che si apre così no torna indietro quella è un'anomalia beh la porta si è aperta per i cazzi propri è un'anomalia eh dimmi che è fatta oh è fatta non c'è più lo zero conductor's room ok e dobbiamo tirare il freno e fermare tutto no 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 che è succeda che cazzo è sto rumore oddio è un rumore di un baballotti che cazzo di rumore ti no 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 ma come La visione personalizzata Wow Ma che cazzo? Questo vado all'ho finito Ma che cazzo il bambino Che vuoi? Ok Ebbè non parla Tuo fratello è incredibile Ma non è un fratello Cioè l'hai fatta Minchè io contento che l'avano tradotto in italiano Dimenticandomi che la qualità non è che sia chissà che Si muove di fretta Cosa che non va in giro Per caso pensate questa fosse la cabina dell'autista Che preme in giro Sapete che c'è su Shinkan la carrozza di prima classe Sai se è mio fratello Dove la cabina Ok E' detto che sono vicino alla carrozza del treno zero Per treno zero intendo la carrozza del treno zero di prima classe Madonna Per farse mi sono spiegato male Beh ok Ora è il contrario di prima Disposta ad andare avanti con qualcosa di diverso Che cazzo significa Se non c'era si torna indietro Fatte mi sono spiegato Sbagliate tre volte Arriveranno i fantasmi Ma perché che è? Faccio il tipo per tuo fratello Ma chi è mio fratello? Signore sa? Non pensi che sia strano? Non mi importa Finiamo il gioco per ora Ci vediamo dopo allora Cioè Cioè quindi scusa Se ci sono Allora Puoi dirmi le regole? Disposto ad andare avanti con qualcosa di diverso Se non c'era si torna indietro Cioè quindi Praticamente se ci sono anomalie andiamo avanti E questo è quello che Oh madonna mia Quindi se ci sono anomalie andiamo avanti Se non ci sono anomalie torniamo indietro Cioè ma che cazzo vuol dire? Oh madonna Ok C'abbiamo una torcia o qualcosa? Un silito, un cazzo Oh madonna mia Che allochiubioni con questo? Eh Cristo Ok Ok Il tipo che cerca di raggiungere Madonna Se sbaglio tre volte arrivano i fantasmi Ha detto Signore Ok Ok Vabbè Qui c'è la tipo che passa con il carlino Ok C'è il tipo con l'occhio bionico Il tipo qua Sono quattro persone da tenere gli occhi Ok Quattro Scusa Oddio è questo? Micky Che vuoi? Lei è umano? No guarda Cosa è questo? Impossibile ingannarmi Indossibile ingannarmi Indossi un vestito Che cazzo E' serai Non sembri come il Non sembri come il Non sembri come il Non sembri come il Lo faccio giovanotto Ti raccontavo se è qui Boh Ho visto qualcuno sul treno? Ho visto una donna in borghese Ho visto un ragazzo con il cappuccio Potrebbe essere un buon treno La mia eccellente osservazione E? Lasciate che vado In base alla mia esperienza Di 84 anni di vita Ma su questo treno? La maggior parte delle persone Quelli non sembra essere una persona vera Ah ma Si parla che non lo rispondono E' come un robot Come un robot Ok Ah ma il mondo lo vede Mh minchia Quindi la mia conclusione è Non fidatevi di quello Già che cravate E' quello che sto dicendo Sì eh Sono stanco Eh dormi nel cesso Lasciatemi dormire Sono un ma Ma prima io Ma che cazzo Si è nuccato così Guarda Come i cavalli Ma che Beato Mh almeno c'è il bastone Che lo sorreggi Ok Ok Sette Madonna Tornai indietro se non ci sono anomalie Ah ok Se non c'è l'anomalie Torniamo indietro Ma quali Inchialate come un casino Porca droga Quindi se non c'è l'anomalie Torniamo indietro Se ci sono le anomalie Andiamo avanti Non c'è un'anomalie Signora C'è il vecchio sempre qui Con la mano morta Boh Tornai indietro Non ci sono anomalie Cioè non so quanto devono essere Ehm Non lo so Cioè prima erano abbastanza evidenti Ecco Abbiamo tre tentativi 6 Ok è andato bene C'è il tipo che si siede Ok La tipo al pc Ok Ok c'è un'anomalie Quindi dobbiamo andare avanti Grande Perfetto C'è il tipo qui Ok Dobbiamo andare avanti Se c'è l'anomalie 5 Ok Ok ho capito Ok è chiaro Le regole sono chiare Non solo presterà attenzione a quello che ci circonda Questa c'è la solita faccia di merda Quindi Ok Sempre la mano da morto Questo qua Non mi pare ci siano anomalie Quindi direi di tornare indietro Non ci sono anomalie Quindi dobbiamo tornare indietro Oh Cristo Questa Questa conta come anomalia No Andiamo avanti Più che la stavo per perdere Vedi che bastardo sto gioco Cristo Ok Ok Sono il quarto Stiamo attenzione C'è la tipo Ok Ok Non è che devo tenere d'occhio Anche cosa porta lei Nel carrellino Magari sono peni Boh Il tipo sempre lì Se non c'erano anomalie Dobbiamo tornare indietro No Controlliamo meglio Perché la mano la stavo mancando Se non tornavo indietro Non l'avrei notata Però mi pare che non ci siano anomalie Perdonate ma devo controllare bene Sicurezza devo controllare Molto bene Intanto qua è buio Cazzo Non è che lei non stai guardando a Pornhub A sto giro Ma no Qua è buio Troppo buio Per vedere qualcosa Ok Non ci sia nulla Ma non c'è nessuna anomalia Zero Allora torniamo indietro Oddio ti prego Perché poi abbiamo tre tentativi Perché poi Arrivano i fantasmi Uh Ok Oddio ti prego Fa che Abbiamo fatto corretto Cazzo C'era un'anomalia allora Merda Ho fatto sbagliare C'era un'anomalia allora E non l'ho notata Appare non ci sia un'anomalia adesso Possiamo tornare indietro Chissà cos'è che ho mancato Vedi L'ho stato attento Magari qualcuno fra di voi Ha notato qualcosa Che io non ho notato Vedi questo di là Vi sarebbe stato figo Sette Ho sbagliato di nuovo Ma che cazzo vi stai dicendo Questo è il pc C'è la laida che passa Minca sbagliamo ancora Siamo fottuti Spero che riprenda Dal checkpoint no? What the fuck Oh madonna mia Ma sei serio? C'è io come Guarda quanto cazzo Ma stai scherzando? C'è Vai e becca Una cosa così distratta Ma scherzi? Che folle sto gioco Lo amo Lo amo Quindi andiamo avanti Sì Ok C'è la tipa Questa porta sempre stesse stronzate Il minchione qua Così Fermo da una vita Una vita a ferro? Buuuh Io direi quasi cose di tornare indietro Non ci sono anomalie Questo che muove la testa Non è una valia Vedi? Perché non abbiamo esplorato Quanto devono essere I cambiamenti Importanti Ecco Ah ecco Vedi vedi Va bene va bene Cinque La tipa che porta il carrellino La stronza qua Ehi tu bella donna Perché può essere per dire Anche il suo carrellino di merda No? Può essere pure questo Che magari sono messi In un certo modo Ed è un'anomalia No? Se qualsiasi cosa Ci fate caso Potrebbe non esserci Nessuna anomalia? Torno indietro A meno che ci sia una mano Da qualche parte Che Boh Credo che non ci sia Nessuna anomalia Credo eh Spero di non sbagliarmi Ma Non c'è nessuna anomalia Dimmi che c'è un 4 adesso Oddio Sì grazie Siamo a 4 Ok Possiamo farcela La stronza qua Anche quello invisibile Di prima Era grave Da beccare Questo è sempre in ordine Ok Meglio guardare anche queste piccole cose Aspetta la sua faccia di merda Com'era Anche magari adesso sta Questa è un'anomalia Perché mi guarda Quindi andiamo avanti Cioè mi ha guardato Prima era Non mi guardava prima eh Non mi guardava proprio per niente Quindi è un'anomalia È un cambiamento Cioè credo di sì Oh madonna mia Questa sì che è una bella anomalia Minchia un po' più palese Che Che Chezzo Dove c'è la tipe col portante Dove c'è dei fiori Oh E il fratello Pensi che ce la faremmo a tornare vivi Penso a tua sorella Ah così Ma che cazzo Ok la regola era sempre andare avanti Minchia bel ceppo di legno Che cazzo Alla grande È un'anomalia No Un bel due Ok Ok ragazzi Siamo Siamo un passo Siamo Un passo Un passo dalla glory Qui è sempre lui Lei è sempre uguale Tu mi guardi No non mi guarda Ok Ok Allora Miss mano morta Qua Ok Qua il braccio ce l'aveva sempre così prima Minchia non mi ricordo Però non mi pare ci siano anomalie no Anomalie evidenti Mi pare ci siano Forse dobbiamo tornare indietro Madonna Non sono esattamente bravo nel trovare le differenze A meno che non siano veramente ma veramente Proviamo ad andare indietro Malattento raga Dimmi che c'è un 1 Sennò sono fottuto Sì Ho fatto un mega scatto Quindi mi aspetto E vedi Quella è già Un'anomalia Questa è un'anomalia Quindi possiamo proseguire Chi è che sta fumando qua dentro Salve signo Questa è un'anomalia Bella palese Ma Qua non possiamo Possiamo andare in eccesso Zero Raga è quasi fatta Se faccio Se non faccio cazza Oh L'ho beccato Ho finito qualcosa Quella è un'anomalia Ok 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 perfetto perfetto Salve signo Ma quindi è un'anomalia alla volta Non sono tipo 2 3 Cioè immaginate Vedi ad esempio Se non beccavamo Quel momento Cioè Eravamo Fuck Fuck Fucked Meglio continuare Non Mi sgoffa qui Le sue zampette Con la luce Sempre lampeggiato Sempre lampeggiato Ok Tu non mi guardi L'uomo bionico Non mi caga No credo di si però Si si lampeggiano Le luce Cioè Normale Ok Ok lo stronzo Sempre così Ok Raga Oh mi pare che non c'è nulla Nulla di anormale Nulla di anomalo Probabilmente ci conviene tornare indietro No? Se ci siano uno di strano Credo che dobbiamo tornare indietro Sto giro Fammi vedere a te Con le tue merendine Oddio Non mi ricordo Ma i panini erano così Prima Ma erano questi Stronza I panini Prima Madonna Allora Tornare indietro No ma è giusto In realtà Cazzo Non devo più tornare indietro Devo andare avanti Non mi fa tornare indietro Cioè è fatta Tecnicamente Sono Arrivato Ecco Fermato il treno Voglio scendere Cristo Caricamento Ok Non devo che si ricomincia da capo Posso chiamare qualcuno Madonna Non mi piace E' tutto troppo tranquillo Vero? Ma il fratello Col bambino Non so che cazzo Che fegava Una busta vede Che ricominciamo da capo Posso scegliere Prendere Sono spariti tutti Che faccio? Ho indeciso Se sale di numero Sto mandando bene Sì Ok Mi ha detto Non fidarti Dell'uomo in giacca e cravatta Ricordatevelo Una roba del genere Ve l'ho detto Un po' ansioso Corretto è corretto Anche perché Credo che dobbiamo tornare indietro No? Siamo trovati Il ragazzino E la sorella Che dormiva Perché poi non ho capito Se quelli sono Cioè la traduzione È fatta a cazzo di cane Non ho capito Se è davvero Un fratello mio Quello lì O cosa Capisce mica Com'è possibile Che Il traduttore Sbagli di così tanto Mamma mia Che strano Ormai mica nel 2024 Pensavo che Anche le traduzioni Tramite traduttore automatico Fossero ben affinate Invece No Ciao Ciao Loading Ok Vedo Il treno non si è fermato Ha fatto il giro Ma potete fermare questo treno È già fermo Se dire che sono più lì Giusto C'è qualcosa che non quadro Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo di essere salito Su questo treno Ho visto un ragazzo Con un affelpanello Con un cappuccio Lugate un occhio Era un mio fratello Non mi ricordo 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 Ho visto un ragazzo Ho visto un ragazzo Con un affelpanello Chiedeteglielo Direttamente Grazie Vedi qui No Purtroppo Sul lato Non ho visto C'è qualcosa Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Non lo so, hanno rotto i cerchi facendo correre due passano la direzione opposta molto l'accemento. No! Aspetta. Mentre non ho più l'accemento. Io 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 non ho più l'accemento. Lo so. No perché devi farlo ripartire. Allo stesso modo? Dio l'accemento. Dio l'accemento. Dio l'accemento. Vado a standard classico del trenco. Vado a standard classico del trenco. Posso vedere la prima porta che... Oddio, ma che faccio? Dalla parte della carrozza del prima classe... No, vado sul lato standard. Non so manco quale è il lato standard. Certo. Ok, ma quale è il lato, Chris? Perché non mi ricordo mica. Questa, no? Ma no, se sbaglio fa veramente ridere se sbaglio. Era questo dell'altro, vero? What? Che è succedo? Ah, ok. Ah, era giusto. Ok. Cioè quindi la sua idea qual è? è quella di correre e incontrarci. Che cazzo? Ma voi il macchinista cos'è? Morto? Per caso? What? Ok. Però non mi fa andare. What? Ma che cazzo? Ah. Sono uscito. Finale 1? Ci sono altri finali? Oddio, forse ho sbagliato. Oddio, raga, forse ho sbagliato. No, vabbè. The song is safe su YouTube. Che cazzo dovrebbe essere questo? Qualcuno ve lo dica, eh? Ok, quindi abbiamo completato col finale 1. Volendo possiamo... Se facciamo... Dopo che il treno si è fermato... Facciamo dopo che il treno si è fermato, magari possiamo ottenere un altro finale, appunto, no? Quindi dobbiamo tornare completamente indietro dalla stronzza. E... Stavolta faccio... Classe... Faccio l'altro, faccio l'altro. Probiamo fare un'altra cosa. Stavolta le diciamo su minuto e di no. Di nuovo. No, vado sul lato standard. So, sicuro? Se sicuro? No... Capisco. Lascia un occhio a te. Dobbiamo insieme. Brighiamo. Ma come fa a muoversi se l'ho bloccato? Eh... Non c'è nessuno la sala comandi. Che diavolo dovrebbe ripartire da solo, beh? Quindi noi adesso andiamo da questo lato. E mi ricordo che c'è ragazzi... Che era... Da qualche parte, no? Stavolta l'escesso. Che da qualche parte dovrei sbucare sto merdoso, no? Si spera. Stavolta che i cessi non me li sto facendo controllare. Tipo erano un cesso di qua, tipo. Però vedi, non me li fa proprio aprire. Naoki. Non lo so dove è quel bambino di merda, ma... Fintanto che riusciamo a ottenere un altro finale. Oh, what the fuck? Questa non è una bella cosa. Per niente. È sangue. Listo. Accordiamoci cosa ci disse il vecchio. Il vecchio Bacucco. Non ti fidare dell'uomo in giacca grave. È andato. Oh, ma no. Oddio. 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 Oddioок. Me seguirò quella cosa. Non mi farò voltare. Oddio. posti di merda non voglio sapere cosa sta succedendo dai ma si è bloccato nel sedile ma dai ok ok siamo noi siamo noi non ci voltiamo non ci incastriamo nel sedile perfettivamente non so cosa diavolo sta succedendo ma fa impressione ok ok ripartito ma non posso tornare indietro oddio qual'è la tattica geniale di quell'idrofola ah guarda che bello spettacolo cioè aveva detto una roba del tipo torniamo indietro attiviamo poi ci rincorriamo che cazzo che aveva detto non cazzo del genere cazzo scatta così guardami apri apri me ne vado ma lo vedi non mi hai fatto mai indietro quindi che diavolo di finale come dovrebbe essere questo guarda tu ti affido tuo fratello è qui ti stavo aspettando sorella sei sveglia Naoki fratello sto bene ora si stai bene voi venire con me fratello non prefisco di no grazie va bene non credo che dovresti venire perchè mi sento come non ti preoccuparti andrà tutto bene non importa ora ci andiamo grazie grazie mille arrivederci cioè grazie mille che rimango qua nel coso all'infinito mi stai prendendo per il culo se rimango nel treno a vita per aver salvato tutti i due encefalitici che succede oh gesù sono felice che tu sia sveglio non hai notato eri sul pavimento perchè adesso dov'è strano in cielo per fortuna un medico era sul shinkansen carui si trattava di una tromboembolia venosa diere mi ha fatto la diagnosi in due secondi sindrome di rettomalia sono le gambe e sembrava essere d'aiuto sono davvero felice questa persona mi ha salvato mi ha salvato la mi ha salvato a me ti ha salvato perchè i treni non fermi non potevano chiamare l'ambulanza quindi lo scenario quel genere era possibile ah l'incidente ha fermato il treno per un po' l'incidente con lezioni personali ha detto non fidarti dell'uomo con la cravatta mi scusi chiamata di lavoro è stata una donna ragazza oltre no magari sono morti che cazzo è successo ma mi ha detto l'uomo con la cravatta c'ho la cravatta io c'ho la cravatta con il vecchio a fianco a me ending 2 finale 2 eh guardali ho passato di nuovo un altro treno e li cracka quindi sono morti tecnicamente sono rimasti coinvolti nell'incidente e sono morti ok molto carino spero vi sia piaciuto anche a voi ragazzi non ho avuto fortunatamente difficoltà a portarlo a termine pensavo di averne in realtà noi ci vediamo con un nuovo horror magari e direi che va bene così ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti